Buongiorno a tutti, oggi insieme al Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra e al Senatore Pietro Grasso, abbiamo presentato a Palazzo Chigi la relazione sull'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, relazione di cui io e il Senatore Pietro Grasso siamo stati relatori. Il testo finale elaborato dalla Commissione Antimafia è un testo sicuramente complesso che contiene nuove e più stringenti regole per la concessione dei benefici penitenziari. Perché questo? Perché recentemente sono intervenute due importanti sentenze, dapprima la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che è intervenuta sull'ergassolo ostativo e successivamente la Corte Costituzionale, la sentenza numero 253 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis comma 1 dell'ordinamento penitenziario, leggo testualmente, nella parte in cui non provvede che possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Ovvio che alla luce di questa sentenza abbiamo dovuto interrogarci e soprattutto è nata la necessità di ripensare a un nuovo procedimento al fine della concessione dei benefici in caso di mancata condotta collaborativa da parte del condannato. Ed è per questo che sono nati dei criteri, distinguendo anche in tipologie di reati contenuti nell'articolo 4 bis comma 1. In particolare per i reati di prima fascia, quindi per i reati associativi, reati di criminalità organizzata, eversiva, terroristica, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, quindi di maggior disvalore sociale, è previsto un più rigoroso procedimento di accertamento da parte della magistratura di sorveglianza dei presupposti per la concessione di eventuali benefici. E cosa serve? Innanzitutto serve un regime probatorio rafforzato e serve la prova positiva. Cosa significa? Significa che grava sull'istante, grave sul condannato, l'onere di fornire le prove che consentono di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, nonché il pericolo del ripristino di quei collegamenti. Quindi l'onere grava unicamente sul condannato e ovviamente le allegazioni che deve produrre devono essere specifiche, non generiche e soprattutto basate su elementi fattuali, precisi, concreti e attuali. E da qua il magistrato potrà ovviamente prendere la decisione oltre sulla base delle informazioni che gli verranno fornite dal procuratore nazionale antimafia che si coordinerà con i procuratori distrettuali e con i comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica. Quindi regime probatorio rafforzato, prova positiva e pareri che devono venire dalle varie autorità coinvolte. Questo per quanto riguarda i reati di prima fascia in cui serve provare che si è rescisso il collegamento con l'organizzazione criminale di appartenenza. Per gli altri reati invece, cosiddetti monosoggettivi, è richiesta una prova negativa, quindi dell'inesistenza dei collegamenti e quindi dell'inesistenza della pericolosità sociale. Diciamo che si è trattato anche in merito alla competenza a decidere sui benefici, in tal caso sui permessi premio, perché ricordiamo l'oggetto della Corte Costituzionale riguardava i permessi premio e sono state elaborate due ipotesi, due ipotesi aperte, sia l'ipotesi della competenza dell'accentramento al Tribunale di Sorveglianza di Roma, oppure un'ipotesi del cosiddetto doppio binario, ossia del trasferimento della competenza in tema di permessi premio dai magistrati di sorveglianza che oggi spetta loro in merito alla decisione del permesso premio, al Tribunale di Sorveglianza Territoriale. Ovviamente le ipotesi sono aperte in quanto lo scopo della Commissione era fornire degli elementi concreti e anche in modo tempestivo per dare al Parlamento e al Governo gli strumenti per elaborare un eventuale articolato di legge e quindi intervenire in modo concreto. Ci tengo a ricordare che purtroppo non si è ottenuta l'unanimità, ma nonostante questo ci tengo a sottolineare che questo è un grande risultato, un grande risultato in realtà di squadra, collettivo, trasversale, perché ogni forza politica ha dato il proprio contributo nel migliorare il testo finale e ovviamente ci tengo a ringraziare per la mole di lavoro, l'impegno, la professionalità, la competenza, gli uffici, a ringraziare i consulenti magistrati della Commissione Antimafia, tutti i commissari, il Presidente Nicola Morra e veramente grazie al co-relatore, al Senatore Pietro Grasso, per cui è veramente stato un onore potermi confrontare con lui simbolo della lotta alle mafia e la criminalità organizzata. Questo è un importante risultato e l'antimafia deve continuare su questa strada e su questo impegno trasversale.